è difficile non rimanere affascinati da questo borgo al maestro luzzati che con il paese ha avuto una lunga ed operosa consuetudine appariva come un'invenzione della sua fertile fantasia potrei averlo disegnato io diceva già vedendolo dalla strada mi è sembrato un luogo magico quasi uscito da un poema epico medievale visto dall'alto apricale appare come la somma di due lucertole degligentemente posate sul crinale esse hanno in comune la testa e le code sono una rivolta alla montagna mentre l'altra discende verso il mare per conoscere davvero questo sorprendente borgo bisogna però penetrare nel suo tessuto dove la vista lambendo costantemente i muri vertiginosi delle case vi restituirà il senso stesso del termine ancestrale nella rete erabilitica dei veicoli e dei portici di questo paese è veramente sono rimasto estasiato vien da pensare che per appropriarsi del senso pieno di ciò che ci circonda occorra camminare ponendo la mente sugli antichi statuti ormai quasi millenari di questo luogo per magia allora vedremo comparire sugli usci gli antichi abitanti di apricale compresi nei loro quotidiani affanni intenti a correre per portare gli armenti al pascolo o con gli attrezzi in spalla diretti verso gli orti tutti garantiti da regole ferree e ai nostri occhi moderni persino crudeli siamo nella casa del boia il nostro boia qui statuti alla mano aveva il compito per esempio di assicurarsi che un assassino fosse seppellito insieme alla persona che aveva assassinato attenzione seppellito vivo questa storia evidentemente ci riporta a una paura ancestrale che possediamo un po tutti e cioè quella di rinascere dopo la morte trovarsi chiusi in una barra senza possibilità di uscirne una via d'uscita da queste parti ce l'avrebbero comunque data bastava raccogliere un ferro rovente dal fuoco con le mani procedere per nove piedi e alla fine di questo percorso guardare se le mani fossero state ustionate bene avevamo torto e saremmo stati seppelliti vivi se le mani fossero state intate invece saremmo stati assolti e saremmo potuti tornare a casa nostra il cosiddetto giudizio di dio oggi però i giovani sono tornati a popolare questo borgo con ottime intenzioni nel mio ritorno ho trovato un apricale molto viva perché comunque sia tanti sono i giovani che sono in paese quindi non solo noi che abbiamo preso queste attività ma altre attività nel paese sono state prese da ragazzi giovani chi lavora in campagna e quindi continua la cultura dell'olivo o del del verde chi ha aperto un laboratorio di cosmesi naturale noi abbiamo rilevato un ristorante e abbiamo tanti tanti clienti giovani che hanno deciso anche loro di ritornare apricale con queste premesse andiamo a visitare il castello della lucertola che rappresenta un corposo riassunto della storia passata e presente di apricale secondo me è un posto quasi fiabesco poi essendo un posto nell'entroterra c'è un mix tra la liguria quindi il mare sapori proprio della della terra selvatica tra le tante cose che vi troverete eccovi uno spicchio di belle poche che se ne è impadronito è la storia della cosiddetta contessa di apricale una popolana in realtà ma forse la figlia più riuscita di quel senso straordinario che qui si avverte un po dovunque cristina bellomo detta emma riuscì a viaggiare per tutta l'europa vestendo addirittura i tenebrosi panni della spia per conto dello zar tutte storie su cui meditare magari seduti in uno dei molti ristoranti che offrono piatti di una cucina antica e gustosa tra cui vogliamo ricordare le ottime pansarole con lo zabaglione a pancia piena tornate con lo sguardo su un elemento che vi avrà colpito fin dall'inizio quella strana bicicletta appollaiata sulla cuspide del campanile qui un altro po di pensieri in libertà non possono far male apricale bisogna sempre salire e nella vita anche bisogna cercare sempre di salire e dobbiamo pensare che tutto sommato c'è la possibilità in quanto oggi c'è la bicicletta qua sul campanile domani potrebbe essere ancora più un altro non bisogna mai diciamo demordere mai pensare che non si possa andare avanti